Sara, tu freddo? sospensiva fissata per il 18 settembre, il ricorso cautelare delle associazioni ambientaliste sospendeva di fatto così la preapertura della caccia nelle Marche prevista per domenica prossima, primo settembre. Canti di giubilo per le associazioni minimaliste ma questa notizia ha fatto lievitare la presenza delle doppiette a Fano anche e soprattutto per la presenza annunciata dei due diretti interessati sulla vicenda, ovvero il governatore delle Marche Luca Ceriscioli e l'assessore competente Moreno Pieroni che sono stati incalzati sull'argomento dai convenuti e dal presidente regionale di Federcaccia. Purtroppo ci troviamo questa decisione, noi crediamo che con i dati che la regione Marche ha si possa supportare un provvedimento che chiediamo e chiederemo questa sera con forza ai rappresentanti della politica marchigiana. La regione sta studiando che cosa si può fare, speriamo di avere una preapertura, vediamo fra poche ore il risultato di questa analisi dettagliata che sta facendo l'ufficio caccia della regione insieme alla vocatura regionale. Siamo sempre fiduciosi e combattiamo. preannuncio che la Federcaccia Marche si costituirà ad adiuandomi insieme alla regione nel giudizio di merito per questa sospensiva.